Ciao a tutti, torniamo a parlare di Linux come sistema operativo desktop. Ultimamente ci sono state delle importanti modifiche che rendono questo sistema operativo sempre più utilizzabile. In questo video andremo a vedere quali sono le migliori configurazioni ed estensioni che possiamo abilitare. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare. Puoi iscriverti al mio canale cliccando su iscriviti e attivando la campanellina non ti perderai i miei nuovi video. Puoi anche seguirmi su Telegram, Teconsapevole per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla tecnologia e Teconsapevole Crypto per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle criptovalute. E se ti piacciono i miei contenuti ti consiglio anche di dare uno sguardo alla Teconsapevole Academy. Ok, allora questo è un Linux desktop attuale, diciamo leggermente configurato. Giusto per farvi un'idea, questa è la versione che sto utilizzando adesso. Quindi si tratta dell'ambiente desktop GNOM, versione numero 43, che più o meno è supportata da tutte le distribuzioni Linux. E la parte importante è questo Wayland, perché alcune cose funzionano solo appunto con questa configurazione con Wayland e quindi non X11. Anche questo è supportato più o meno su tutte le distribuzioni Linux. Qualche tempo fa avevo fatto questo sondaggio sul perché le persone non usassero Linux come sistema operativo desktop. Al primo posto avevo messo la mancanza di giochi. Questa cosa dipende, dipende dai giochi che andate a utilizzare. C'è un progetto che si chiama Proton, che vi permette di far funzionare alcuni giochi per Windows su Linux. Tuttavia anche qua la compatibilità dipende caso per caso. Discorso simile anche per supporto a software e hardware specifico. Su Linux ci sono, diciamo, delle alternative e quindi se vi vanno bene le alternative, bene, altrimenti anche questo può essere un problema. Tolte queste due casistiche, le persone che hanno votato difficile da usare, questa cosa secondo me è migliorata di molto. E in questo video vi farò vedere effettivamente perché su Linux ci sono delle funzionalità simili a Windows e Mac OS e anche di più. E sono veramente interessanti e semplificano di molto l'utilizzo del computer di tutti i giorni. Ok, quindi iniziamo con Gnome Shell, che è l'ambiente grafico che sto usando in questo momento. E molte delle modifiche si possono fare tramite le estensioni, che sono dei plug-in che vengono appunto aggiunti al sistema operativo. Quindi sotto Extensions, queste qui sono quelle che ho abilitato io. Alcune sono per le notifiche, altre sono dei dettagli. Ma prima di farvi vedere le estensioni vi faccio vedere l'utilizzo, tra virgolette, normale di un desktop Linux. Appunto in modalità Wayland ci sono le gesture che sono integrate proprio nel sistema operativo. Quindi con tre dita su potete vedere tutte le finestre che avete aperto e con tre dita su ancora potete vedere tutte le applicazioni che avete installate. Queste sono, diciamo, il funzionamento base. O in alternativa avete tre dita destra, tre dita sinistra per andare su eventuali desktop aggiuntivi. Ok, altre cose. Vi faccio vedere appunto una delle funzionalità più importanti, che non è tanto nel sistema operativo quanto nel browser. Effettivamente Firefox 106 implementa le gesture nel browser. Quindi anche qua, cosa molto comoda. Quindi andate a controllare di avere una versione compatibile. Quindi da Firefox 106 in poi potete fare queste cose. E queste cose sono appunto le gesture. Quindi facendo il pinch to zoom potete appunto ingrandire con la scheda video determinate parti di una pagina web. O in alternativa potete usare due dita destra, due dita sinistra per fare avanti e indietro. Quindi adesso io ho cliccato su un sito internet, che è questo, con lo swipe di due dita esce fuori questa freccia e ci permette di tornare dove eravamo. Questa cosa è molto comoda, è stata integrata da poco su Firefox, su Linux e ci permette appunto di andare avanti e indietro nelle pagine senza ogni volta andare in alto a sinistra e usare queste due frecce, che sono comunque delle cose che normalmente si utilizzano quando si naviga sul web. Questa cosa non è implementata su Chromium o su Chrome, però ci sono, diciamo, degli hack che vi farò vedere che ci permettono anche di fare questa cosa anche sul browser Chrome o Brave, però appunto non è fluida come quello che avviene su Firefox. Altre cose che secondo me sono abbastanza interessanti sono appunto nelle estensioni di Gnome Shell. La prima è questa Blur My Shell, che sarebbe questa, che vi colora il contorno del desktop con il tema che avete installato. Questo è, diciamo, un dettaglio che ho voluto aggiungere. L'altra estensione è Clipboard Indicator, che sarebbe questa qua. Ci permette di fare il copia e incolla e gestire copia e incolla multipli. In questo caso l'ho pulita. Per esempio, se noi copiamo operativo, quindi faccio Ctrl-C, poi faccio, che ne so, desktop perché, faccio di nuovo Ctrl-C. Quindi, questa estensione ci permette, se togliamo il privacy mode, di, appunto, avere salvate il copia e incolla multiplo. Quindi questo è il primo copia e incolla, questo è il secondo copia e incolla. E questa estensione, appunto, ci permette di avere il copia e incolla multiplo. Questo è utile in situazioni, diciamo, un po' particolari, però appunto è una possibilità che possiamo utilizzare per estendere il sistema operativo. Altra cosa interessante è Dash2Panel. Normalmente questo ambiente grafico GNOM non ha la dock, che sarebbe questa barra qui sotto. Anzi, ce l'ha, ma solo in Ubuntu. E con questa estensione possiamo, appunto, mettere una dock nella parte bassa dello schermo e quindi avere, diciamo, lo spazio dello schermo organizzato nel modo più efficiente possibile. Quindi qua ci sono le applicazioni aperte. Se è illuminato significa che è l'applicazione aperta. Se non è illuminato significa che è chiusa. Poi abbiamo la data e, appunto, altre configurazioni veloci. Altra estensione che ho attivato solo per un piccolo dettaglio è questa Just Perfection. Normalmente questo tipo di animazioni continue sono, diciamo, lente e con questa estensione dall'interfaccia grafica possiamo velocizzarle. Quindi qua su Settings, vediamo se me la apre. Non me la apre. Comunque da questa estensione possiamo attivare le animazioni veloci per quanto riguarda la presentazione delle finestrative. E questa qui è User Teams che vi permette, appunto, di mettere altri temi oltre quelli a disposizione. Per esempio io ho attivato un tema compact che, appunto, riduce ulteriormente lo spazio utilizzato da GnomeShell. Quindi è tutto più compatto. Ok, quindi queste erano le estensioni. Quindi l'altra cosa che è molto interessante, che non è un'estensione, è un qualcosa che si installa a parte, è la possibilità di avere le preview dei file. Per esempio in questo caso, se clicchiamo due volte, si apre l'applicazione per vedere l'immagine. Ma se noi premiamo la barra, possiamo avere, appunto, questa anteprima immediata, senza neanche aprire il programma delle immagini. Quindi l'Image Viewer. E questa cosa, appunto, è molto veloce e si integra tramite un programma a parte, non è un'estensione. E questa estensione, e questo programma si chiama Sushi. Controllate che sia disponibile anche per la vostra distribuzione Linux. Ok, altre cose interessanti. Questo più che altro è un fix, però, appunto, abbiamo la modalità notturna, quindi quella che ci mette il filtro rosso sullo schermo. Questa cosa non è attivata di default, è questo Night Light. Potete decidere di metterlo in modalità automatica, quindi che si attiva a determinati orari. O in alternativa mettere manuale. Questa cosa su Wayland, diciamo, non era disponibile. E per renderla disponibile, questo è un qualcosa, secondo me, diciamo specifico alla mia distribuzione, ho installato una versione alternativa di Mutter, che è un componente, appunto, di Gnome Shell. Quindi invece di usare Mutter 43, ho usato questo Mutter Dynamic Buffering, in modo tale che funzionasse anche qua la visione notturna. Quindi viene un filtro rosso, un filtro arancione, su tutte le finestre durante le ore notturne. Ve lo consiglio, indipendentemente dal sistema operativo che state utilizzando. Altre cose interessanti, abbiamo la possibilità, ok, qua è partito il filtro notturno, però appunto, come vi dicevo, non è detto che si vede nella registrazione, però adesso lo disattivo. L'altra cosa interessante è i font. Il font di default, personalmente, non mi piace tantissimo, però con Gnome Tweaks abbiamo la possibilità di cambiarlo e anche ingrandire tutta l'interfaccia, volendo. E sotto fonts, il font che mi sembra più carino è questo Product Sans Bold. O in alternativa c'è un altro font abbastanza carino, che è il Clear Sans. Vediamo. Clear Sans Medium Regular. Vediamo. Non c'è molta differenza tra questi due font. Scegliete voi quello che vi sembra più carino. Secondo me entrambi renderizzano molto bene appunto nelle interfacce. E questa è la mia configurazione dei font. Ultima cosa, ma non ultima per importanza. Finalmente su Gnome con Wayland è possibile utilizzare gli shortcut globali con OBS. Questo è un caso d'uso un po' particolare. Però se andiamo negli shortcut abbiamo la possibilità di mappare appunto delle cose con la tastiera che interagiscono con altri programmi in modo globale. E questa cosa è utile in tantissime situazioni. Nel mio caso in particolare è utile quando passo, qui Custom Shortcuts, è utile quando passo da un'inquadratura all'altra di OBS. E questa cosa si fa ovviamente integrando anche alcuni componenti in OBS. ci permette di cambiare le scene con un comando da terminale. E questa cosa appunto si può fare con OBS CLI, quindi il comando da terminale, insieme a un altro componente che è OBS WebSocket. Questa cosa accade perché su Wayland, diciamo, normalmente l'accesso alla tastiera in modo globale non è permesso per motivi di sicurezza. Quindi se questa cosa vi può interessare, con OBS, per abilitare queste cose c'è OBS CLI e OBS WebSocket Compact. Quindi mi raccomando, installate questa versione perché l'altra non è compatibile. E dopodiché su OBS potete attivare questa cosa con WebSocket Server Settings 4X Compact. Quindi queste sono, diciamo, le configurazioni secondo me più interessanti che si possono fare adesso su Linux. E ultima questione che ogni tanto ritorna è il fatto che su Linux appunto c'è tanta frammentazione. Questa cosa secondo me non è più vera, nel senso se voi andate su Flathub, adesso non mi va internet, comunque se andate su Flathub, qui potete vedere tutti i programmi che si possono installare su Linux indipendentemente dalla vostra distribuzione. Personalmente le distribuzioni che consiglio di più sono, diciamo, Arch Linux oppure Manjaro se volete avere il software quello più aggiornato e più integrato con la distribuzione. In alternativa, se preferite la stabilità, probabilmente Debian, Ubuntu e Fedora sono le distribuzioni quelle, diciamo, più consigliate. Dipende dal vostro interesse negli aggiornamenti. Quindi Debian ha aggiornamenti, diciamo, più lenti e più stabili. Le altre invece hanno più software. Però appunto mettendo sempre il software nuovo c'è il rischio che questi software magari non comunicano ancora in modo corretto. Però appunto io utilizzo Manjaro come distribuzione attualmente, che è molto simile a Arch Linux e appunto non sto avendo particolari problemi anche se in questo momento sto installando Gnome 43 che non è ancora ufficialmente supportato. Quindi questa era la parentesi. Che dire, questo è tutto. Secondo me a livello di funzionalità veramente ci sono delle cose che si possono fare su Linux che sono molto più facili da fare magari rispetto a altri sistemi operativi e il fatto che sono state incluse queste funzionalità che migliorano l'usabilità magari per qualcuno questa cosa potrebbe fare la differenza. Questo è tutto, come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto o guardate anche le altre playlist che ho fatto su Linux sul mio canale. Vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!